ciao ragazzi benvenuti su italia film collector channel on videomania sono qui per presentarvi gli arrivi di settembre anche se siamo ad ottobre di play on pictures sono dei titoli fantastici ovviamente lo farò dopo la sigla ma prima iscrivetevi al canale mettete un bel like e soprattutto attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati con i nuovi video facciamo partire la sigla ed eccoci qua allora ragazzi a dire il vero non so nemmeno da dove partire è davvero tanta tanta roba abbiamo 4k dvd cofanetti blu ray cioè quindi per tutti i gusti e per tutte le tasche ovviamente colgo l'occasione per ringraziare play on pictures che puntualmente mi omaggia delle uscite ringrazio play on e passiamo a vedere i nostri amati titoletti allora partiamo dal dvd il gusto delle cose come vedete ragazzi io lascio comunque l'etichetta della copia omaggio ve la faccio vedere qualche commento antipatico ogni tanto pure su facebook lo ricevo ma andiamo oltre cazzo ce ne frega allora eccolo qui il gusto delle cose un film di tran han tiu yong andiamo ovviamente indistribuito da play on per lucky red allora ragazzi io devo un attimo cecare per vedere la trama 1885 l'impeccabile cuoca eugenia lavora da oltre vent'anni per il famoso gastronomo dodin il loro sodalizio da vita a piatti uno più delizioso dell'altro che stupiscono anche gli chef più illustri del mondo con il passare del tempo la pratica della cultura gastronomica e l'ammirazione reciproca si sono trasformate in una relazione sentimentale ma va eugenia però è affezionata la sua libertà e non ha mai voluto sposare dodin con lui così lui decide di fare qualcosa che non ha mai fatto prima cucinare per lei come contenuti ex abbiamo solo il trailer l'italiano in 5.1 dolby digital secondo me è un titolo davvero interessante quindi prendete in considerazione di acquistarlo poi quando lo vedrò vi farò sapere anch'io andiamo scusate ma i cambi di temperatura stanno colpendo anche me prossimo titolo titolo in 4k questa volta quindi passiamo dal dvd al 4k anselm andiamo a spacchettare eccolo qui in semplice amarai anche questo titolo lucky red e abbiamo 4k e blu ray dal regista di tre volte candidato all'oscar quindi wim wenders ragazzi ma di che parliamo per il miglior documentario buona vista social club pina il sale della terra anzi kefir in un film di wim wenders girato in 3d e con una risoluzione 6k anselm racconta il percorso della vita di anselm kefir pittore scultore tedesco oggi considerato il più innovativo importante artista vivente con la sua visione il suo stilo rivoluzionale esplora l'esistenza umana e la sua fragilità attraverso un immenso lavoro della natura critica della storia e del pensiero wim wenders realizza un'esperienza cinematografica unica che mette in luce il linguaggio di kefler di kefir scusatemi ragazzi io vedo poco sarebbe secondo me ora di mettere gli occhiali almeno per la vicinanza ma vabbè questa è un'altra storia fortemente influenzata dalla poesia la letteratura la filosofia la scienza la mitologia e la religione per oltre due anni il regista è tornato sulle tralce di kefir partendo dalla germania patria di patria di entrambi fino all'atelier dell'artista nel sud della francia ricordi percorrendo le tappe di un viaggio dentro e fuori le sue straordinarie opere abbiamo il film appunto in 4k e in blu ray qualcuno mi ha chiesto se fosse in 3d vi dico che non è in 3d almeno non lo riporta da nessuna parte abbiamo come audio italiano dts 5.1 molto interessante poi altro titolo in 4k the bike riders andiamo subito a spacchettarlo eccolo qui anche qui abbiamo una combo 4k e blu ray e anche qui vi leggo la trama volevo vedere se c'erano contenuti speciali qui soltanto il trailer passiamo alla trama di the bike riders the bike riders racconta di un'epoca ribelle il profondo cambiamento sociale e culturale dove un inchiostro casuale scusatemi ragazzi dove un incontro vedete che ho bisogno degli occhiali ovviamente non taglio nulla e andiamo avanti incontro casuale in un bar la determinata katie li scrivo sempre più piccoli posti bastardi e irrimediabilmente attratta da benny il nuovo membro dei vandals il club motociclistico del midwest guidato dall'enigmatico johnny il club comincia a trasformarsi come il paese che li circonda passando da un luogo di ritrovo per i autosider locali a un covo pericoloso di violenti costringendo benny a scegliere tra katie e la sua fedeltà al club questo è un film con tom hardy che io adoro jody comer e austin butler come contenuti speciali abbiamo johnny benny e katie l'era dei bike riders commento il film con lo sceneggiatore e il regista e molto altro come italiano abbiamo inglese e tedesco dolby atmos e l'italiano in dolby digital plus 7.1 e niente sembra davvero interessante come filmetto altro 4k altro 4k altro 4k altro 4k i f lo leggo in italiano gli amici immaginari andiamo a spacchettare anche questo ok ok qui abbiamo anche una slipina questo è un titolo paramount slipina molto bellina tra l'altro e all'interno abbiamo i f gli amici immaginari una favola per grandi e piccini proprio fantasia portami via qui abbiamo anche un bel attività bellino per i bambini ci sono delle attività da fare tipo giochini tanto so che molti di voi lo faranno anche se sono adulti ma questo è un altro discorso è nato per i bambini poi abbiamo 4k e blu ray anche qui anche qui proverò a leggervi la trama proverò perché da buon cieco ormai non sono cieco per quello che pensate voi un mondo tenero e magico con kyley flaming ryan reynolds e john krasinski i f gli amici immaginari è la storia di una ragazza che scopre di poter vedere gli amici immaginari di tutti noti come i f lo leggo in italiano i loro bambini i f inizia così il suo viaggio magico per riunire gli effi indimenticati e i loro bambini prima che spariscano i f gli amici immaginari è un avventura in cui credere ed è perfetta per tutta la famiglia scritto e diretto da john krasinski nel film c'è un cast stellare di doppiatori tra cui fobo waller bridge e steve carrell nella versione italiana pilar fogliati e ciro priello contenuti speciali la realizzazione di e f gli amici immaginari creare gli amici immaginari dare voce agli e f un mix di realtà immaginazione tina tarner forever il mondo immaginario di f papere come disegnare blu davvero interessante poi passiamo all'uscita midnight del mese che non è l'unica e dario argento panico andiamo a spacchettare solita edizione con slip keys e amarai so che in tanti di voi già l'hanno preso chi non l'ha fatto lo faccia allora abbiamo blu ray e cd musicale edizione molto figa andiamo a vedere anche il booklet eccolo qui ovviamente curato da nocturno come infatti è tutto in italiano come sempre guardate che bellino anche dentro ovviamente vi tolgo il disco cd per farvi vedere allora la paura è per principianti da paguro film presenta ora andiamo a leggere di cosa si tratta allora contiene un esclusivo cd audio con la conora sonora di panico realizzato con il coinvolgimento diretto di argento mostrato sia nei suoi momenti più autoironici che in quelli più scostanti il film ricostruisce con padronanza il percorso di una vita intera dario argento ha creato i suoi film più acclamati al riparo dal mondo esterno all'interno di camere d'albergo oggi in una camera d'albergo nella campagna romana sta scrivendo la sua ultima opera questa volta però non è solo di comune accordo con il suo agente decide di tornare in un albergo per concludere la sua nuova sceneggiatura e per essere intervistato filmato seguito da una troupe che sta girando un film che parla di lui all'interno di questa struttura argento non si sente inizialmente a suo agio mentre cerca di trovare la tranquillità sia per terminare la stesura del suo film sia per confidarsi con chi lo sta intervistando ma il demone del cinema che non lo ha mai abbandonato lo ha seguito fin lassù e lo spingerà ancora una volta a darsi totalmente contenuti ex abbiamo intervista ad asia argento daria argento guillermo del toro cristina marsillac gaspar noè nicolas winding refn directing panico intervista a simone scafidi producing panico intervista a giada mazzoleni backstage red carpet venezia 80 e trailer l'italiano è in 5.1 dice originale credo sia l'italiano 5.1 e poi c'è il tedesco durata extra 202 minuti c'è quindi c'è un mare di extra il film dura 97 il docufilm niente molto 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 interessante poi passiamo alle amate steelbook film che io adoro king kong di scusate di jackson non mi veniva il nome del regista un film che io ho amato l'ho già visto in 4k questa steelbook è particolarmente bella ora ve la faccio vedere tra l'altro titoletto dovrebbe essere universal si abbiamo tutta embossed guardate qui che meraviglia è o non è una meraviglia abbiamo blu ray 4k e altro blu ray perché ci sono anche i extra tanti extra quindi ho un tre dischi vi faccio vedere ovviamente anche la steel all'interno vorrei tanto togliere il terzo disco per natale vi giuro ce la faccio ecco davvero stupenda ragazzi questa vale davvero l'acquisto per il film e per l'edizione il film io l'ho amato non so voi qui non vi leggo nemmeno la trama perché non va letta la trama ci sono oltre 13 ore di contenuti speciali 13 ore di contenuti speciali l'ottava meraviglia del mondo ragazzi di cosa parliamo è un film spettacolare che a me è piaciuto davvero tanto altro film che mi è piaciuto tantissimo e me lo e play on ce lo propone ovviamente universal distribuito da play on in una versione steelbook stupenda non mi ricordo se da noi non uscì proprio la steelbook infatti non uscì proprio poi è uscito in 4k che io posseggo adesso è uscita anche la steelbook da noi the northman andiamo ad aprirlo altro titolo che a me non è dispiaciuto affatto è piaciuto tanto anzi quindi ve lo consiglio qui abbiamo andiamo a togliere il flyer anche questa molto bella ragazzi è una steelbook davvero spettacolare guardate che bella anche questa con la scritta embossed spettacolo ragazzi spettacolo questa è 4k e blu ray edizione straconsigliata davvero davvero stupenda non vedo l'ora di fotografarla anche qui abbiamo tanti contenuti extra quindi non sto qui a parlarvi del film o della trama è un film che va visto e niente l'italiano abbiamo un dolby digital 7.1 plus quindi northman un film di roberti eggers poi c'è lei e quindi amici maschietti mi raccomando altro titolone in 4k e in edizione davvero bellissima e pet seminary se se metà di scusatemi guardate che bella edizione cofanettone della paramount davvero stupendo sto cofanetto digipec fuori di testa guardate che bello abbiamo 4k e blu ray andiamo a togliere i dischi poi abbiamo anche del cartaceo che dopo vi farò vedere qui abbiamo una tasca per il cartaceo non so se vi sto rendendo l'idea di quanto sia bello questo cofanetto spero vivamente di sì ora andiamo a riposizionare i suoi dischi nel proprio alloggio e poi ci guardiamo il cartaceo che cosa buona e giusta allora vediamo vediamo cosa ci offre allora abbiamo delle cartoline formato gigante tra l'altro molto molto grandi davvero belle sono pure ruvide dietro con ovviamente le scene del film faccio vedere così spero si vedano bene e niente quindi sono ora ve le conto una due tre quattro cinque sei cartoline da collezione maxi cioè belle grosse proprio soddisfacenti perfetto poi abbiamo il poster con la locandina ufficiale poi qui abbiamo un'altra cartolina foto cartolina come la volete chiamare e infine abbiamo due adesivi a me gli adesivi come gadget piacciono davvero tanto quindi promossa la il comparto diciamo gif allora andiamo a riporlo nel suo bel cartonato che tra l'altro è rigido eccolo qui abbiamo contenuti speciali a go go quindi paure e ricordi visitazione nuova intervista con mary lambert tre nuove gallerie di immagini di il dietro le quinte talvolta è meglio essere morti la tariferica testoria di steven king è un amato amato adattamento di uno dei migliori romanzi mai scritti all'atore rimasterizzato in 4k ultra hd per il 35esimo anniversario pet cemetery segue le tragiche vicende della famiglia creed dopo la terribile perdita del loro gatto uno dei vicini suggerisce di sepperrirlo nel misterioso cimitero degli animali situato vicino casa quando il gatto riappare sull'inizio di una serie di eventi inquietanti e forze oscure che si ritestano dolby vision dolby a no dolby atmos no vi ho detto una cazzata comunque il dolby vision c'è l'italiano vediamo in che lingua c'è dovrebbe essere in 2.0 dolby digital niente molto bello anche questo altro cofanettone stupendo sono i classici universal dell'horror in 4k erano già usciti i singoli ma questo contiene tutti gli otto film iconici bel cofanetto che contiene le due amarai con i film ci sono mari di contenuti speciali ora vi leggo qualcosa allora nel primo cofanetto che dovrebbe essere questo si se non erro c'è dracula frankstein la mummia e l'uomo invisibile ovviamente solo in 4k ok non ci sono blu ray quindi è solo ed esclusivamente in 4k con i miei contenuti speciali abbiamo dracula del 1931 versione in spagnolo documentari sul dietro le quinte documentari su bella lugosi boris carloff e lon sheney junior commenti al film trailer cinematografici e molto altro quindi sono riportati in maniera generica gli extra qui abbiamo gli altri quattro film che è la moglie di frankstein l'uomo lupo il fantasma dell'opera il mostro della laguna nera anche questi solo in 4k e ragazzi quindi non ci sono i blu ray ci tengo a precisarlo perché so che non tutti anche se la maggior parte ormai si non siete passati al 4k infine ma non per importanza living did film collection gold edition io ho già l'altro cofanetto è questo qui mi hanno omeggiato l'altro lo comprai ma allora i dischi e gli extra dovrebbero essere gli stessi non so se c'è un book il booklet è come dire in più con fronte all'altra edizione ma lo scopriremo solo vivendo questa è l'edizione gold edition praticamente come potete vedere ci sono degli inserti dorati molto fighi questo è il cartoncino la grafica è diversa dall'altro nell'altro cofanetto e abbiamo tutta la trilogia non è la trilogia qualche film in più eh della trilogia comunque sono in 4k e questo invece contiene i tre film vediamo c'è anche una cartolina con l'immagine di copertina ragazzi non mi sto sto fermando sui film il cofanetto lo conoscete perché ve l'ho presentato il vecchio vi ho presentato cosa contiene qua vi sto facendo vedere quello che c'è di diverso che dovrebbe essere questo piccolo booklet anche ripeto ora non ce l'ha portata di mano quindi non so se non ricordo se questo booklet c'era in qualche altro formato o se è diverso da quello già esistente la cartolina sicuramente è diversa c'è in più qui praticamente sono ci sono all'interno della copertina siccome questo contiene tre film è vedete fatto così allora allora andiamo ad inserire comunque sono molto contento di avere anche questa edizione per completezza ci sta ovviamente non nasce per questo ragazzi eh i soliti i soliti discorsi potevano fare qualcosa di eh qualche altro titolo invece hanno praticamente ristampato in un'edizione diversa tra l'altro per dare opportunità visto che il vecchio cofanetto è andato ormai fuori catalogo per dare la possibilità di riacquistarlo tra l'altro con una bella versione come la world edition quindi poche lamentele tanti fatti eccolo qui ah comunque volevo dirvi poi una cosa guardate che bellino pure questo qui è un po' rialzata la scritta quindi davvero carino eccoli qua tutti insieme vediamo se riesco a non rompere nulla togliamo questi flyer comunque così vi faccio vedere un po' vediamo se riesco a farvi vedere la mole di arrivi da parte di midnight ovviamente ringrazio che è arrivato fino a qui e vi ricordo sempre di iscrivervi e di attivare la campanella per non perdervi nessuna novità ed ecco qua questo è il pacco che mi è arrivato da Plion Pictures che ringrazio ancora tantissimo ragazzi è stato un piacere vi aspetto presto sul canale per altre novità ho qualcosa da parte che non ho unboxato fino adesso sto cercando di fare un numero un po' più diciamo più grosso ovviamente questi sono omaggi quindi ci fate c'ho comunque un video dedicato e non inserisco altro va bene vi ringrazio ciao e a presto ciao 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 ciao